Ricordare attraverso il giorno della memoria la tragedia dell'olocausto diventa, ai giorni nostri, ancora più necessario ed importante. Più passa il tempo e sempre meno sono i sopravvissuti, i campi di sterminio e dalle deportazioni in vita che possono portare la loro testimonianza diretta alle giovani generazioni. I focolai, sempre più accesi di semitismo e di intolleranza razziale in ogni parte del mondo, impongono di non abbassare mai la guardia, di non tacere e di condannare ogni minimo segnale di strisciante provocazione. Per la giornata del ricordo il Comune di Fano ha voluto ampliare quest'anno la portata e l'estensione di questo momento di riflessione e condivisione. Oltre che con il Consiglio Comunale monotematico di lunedì 27 alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, anche attraverso una serie di iniziative che arrivano fino a febbraio e che per la prima volta, oltre agli studenti delle scuole superiori, coinvolge anche i bambini di scuole medie ed elementari. Una giornata che ovviamente recupera un appuntamento in qualche modo tradizionale che ci piace riproporre anche quest'anno, cioè l'incontro con uno storico, in questo caso il dottor Fresti dell'Università di Urbino, del Consiglio Comunale e degli studenti delle scuole superiori della nostra città, la Sala Verdi, alle ore 9 del 27 di gennaio. E poi però abbiamo immaginato anche un'altra serie di appuntamenti aperti alla città e quest'anno rivolti anche agli studenti delle scuole medie ed elementari. Inizieremo proprio lunedì 27 gennaio alle ore 17 alla Mediateca con un secondo appuntamento con il dottor Fresti che in questo caso proporrà una conferenza sul tema dell'eugenetica, dell'eutanasia durante il nazionalsocialismo. E poi avremo due appuntamenti, uno il 3 febbraio, l'altro il 26 di febbraio, che saranno rivolti specificatamente alle scuole medie e alle scuole elementari, proprio perché abbiamo vertito l'esigenza di uscire in qualche modo anche dalla ritualità e di mettere a disposizione non solo degli studenti delle scuole superiori, ma tutti gli studenti della nostra città, delle occasioni ovviamente adeguate dal punto di vista comunicativo e pedagogico che consentano loro di potersi confrontare con il tema della Shoah e con sicuramente alcune delle pagine più difficili e drammatiche della storia del Novecento. Oltre questo ci sarà un appuntamento e sarà lunedì 27 gennaio alle ore 11.30 la deposizione di una corona alla lapide che qui, proprio l'ingresso del comune di Fano, ricorda una bellissima pagina di storia cittadina e cioè i 150 ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio nel 1945 che arrivarono nella nostra città e che per tre anni furono ospitati qui a Fano, nel porto, nella Ksharra di Fano e nel porto di Fano costruirono poi la nave con cui molti di loro poi nel 1948 salparono alla volta del neonato Stato di Israele.